salve brava gente eccoci qua su destron empire questo è un video brevissimo che è un preludio di quello che vedrete tra poco cioè ieri sono andato al solito centro di osaka osaka 200 in un dei due a namba a nippon bashi e sono passato davanti alla kids station che è praticamente la il negozio con tutti gli display della bandai semi ufficiari se vogliamo ho filmato tutto come al solito e lì c'era anche il drago spaziale col jacks 100 con la prima volta il guy king anche in esposizione io ho fatto il film ho fatto un filmato lo vedrete alla fine del filmato questo il guy king col jacks 100 ci teneva a commentare un po il video che vedrete tra poco prima perché il questo guy king il guy che in se stesso mi è piaciuto perché lo trovo con un bello scalp il problema è stato il drago spaziale che fino adesso l'abbiamo visto sempre accovacciato e la sua porca figura la faceva ma questa volta è stato esposto completamente in piedi con le gambe tese e poi voglio sentire anche i vostri pareri ragazzi ve lo dico semplice parere mio semplicemente ha delle proporzioni che sono veramente orribili nel senso che il corpo è veramente troppo piccolo come già mi era stato segnalato da più ascoltatori però quando è accovacciato più di tanto non si vede nel modo che lo vedrete tra poco vi accorgerete subito che il corpo è troppo piccolo le gambe sono esageratamente grosse specialmente i piedi sproporzionate e tutto molto molto sproporzionato veramente a me mi prendeva anche abbastanza ma come l'ho visto oggi mi ha fatto veramente una brutta impressione vabbè aspetteremo una cita per commentare eccetera però è inutile mi ha mi ha lasciato lì mi ha veramente un po' lasciato lì e anche dello scalpto della testa del gai king con quella del drago spaziale sono completamente diverse io non so se la testa del drago spaziale se non volesse potesse possa essere tramutata nel corpo del gai king viste così comincia anche a avere un po' i miei dubbi comunque vedremo adesso lasciamo la parola al filmato grazie di tutto e ci vediamo nei prossimi video di Tegokodestron Destron Empire castellano la selezione grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.